bella e grazie sono da una cosa che giuano siamo contro a riala legge o con un'ora questo sai alla domanda squadra normale quello è stato un momento riesce a sole a risolvere la nostra siamo se lo sentiamo per una bella messa in bella bella la casa non ho un passato ma che vuol dire che cazzo di stop è? 86 c'hai di over rollo porca puttana dai 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 guarda qua 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 guarda ti eh porca troia vai davvero cioè non sono riuscito a fa' un tiro no no gli ha dato rigore no gli ha dato rigore no gli ha dato rigore questi rigori sono croce comunque non è possibile vabbè perchè tanto tu non puo manco andare cercare togliere palla perchè tanto se se gira e se butta rigore perchè si è buttato no no aspetta no no fermo aspetta ti giuro che ti ho buttato dell'altra parte cioè io mi butto sempre a destra raga perchè sta volta avrei dovuto buttare a sinistra perchè ho tirato ho sbagliato ho sbagliato sai quando tipo ti fa una cosa ma ti sbagliare nooo oddio mio oddio comunque in vizio la terza divisione mette in pausa 3 ore pure un'altra volta non c'ho parole secondo me in seconda divisione non ci devo andare anzi non dobbiamo neanche arrivare in terza è uno sbaglio quando andiamo in terza oddio direi dai se non cuore qua almeno il pareggio bello bello vabbè raga c'è si riesce a giocare è un casino proprio non si riesce a giocare ehh vabbè champions lui si chiama champions ea neymar si modrici ma tanta liga entrancini di venti stanno marano un'intera divisione è sempre lì che sta e maria te prego almeno questa vinciamola ma hai quadrato mettila e mezzo per nessuno nooo 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 mamma mia mamma mia mamma mia questa l'abbiamo salvato al culo proprio eh vai 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 pure dietro hai visto dietro? no dai rigore grazie un rigore ci ha dato ci ha dato rigore non te lo dico non lo dico quindi ce lo dico comunque si non lo dico io perchè ero io prima ma c'ha 84 di forza e 82 di decisione chi? benzi non è male si dai 1 a 0 incredibile in vantaggio dopo non si sa quanto ehh la partita della terza e la seconda per ti hai rubato ma non stanno ma lascia la mia patata dai si si cazzo uuu bravo 2-1 a 0 uuu oddio è troppo pesante cazzo mamma mia non è male mi sento ridicolo che hai fatto quella risultanza adesso Mannaggia la miseria però dai Cioè Benzema basta che ha toccato il testo e il gol E' pure sentato dentro campo Lo fa boh un gol Fai mi spieghi il movimento che ha fatto quadrato Prima di ricevere palla qual è stato Cioè perché è dovuto andare Non si sa Prova come fa il colto Ma è necessario che ha il calcio Ma guarda saldo di pancia Ha spavolato la fialata di petto Dentro l'area vedo Perché è talmente alto che se può permettere di prendere petto Già non c'è l'area di testa No Non l'abbiamo No Sì Sì No vabbè da ma che cazzo ordini Tanto è facile Ma che cos'è sta cosa Non male che non sa che c'è Io non so più le parole che descriverà Cioè quello No vabbè Ahahah Dai stiamo guardando cosa ancora pareggia Tira Sì Sì Che cazzo Ma che cosa fa Che cazzo Vabbè Forse se vi apri da uno spiraio Ma perde Vero Eh non so Tira No perché dov'è Tira Tira Porco 2 Tira Mannaggia Porco 2 Stai allucinato Ma quello Dai Non è Fuorigioco 2 Porco 10.000 Secondo prima 10.000 Capito No E niente In questi due episodi Cioè quello di ieri e quello di oggi Non avete avuto neanche vittoria Ma avete avuto sempre un pareggio e una sconfitta Eh va bene così dai Siamo in terza edizione comunque è molto difficile raga Eh nonostante vabbè i vari bug e script e cazzi vari Però questa dai la fine ci è andata abbastanza bene E niente ci vediamo domani con il prossimo episodio sempre trapani Non è ancora perso niente possiamo ancora tambarci Bella Ciao